che sensazione si prova nel tornare a giocare a calcio è dura però piano piano ci rimettiamo in moto dai non possiamo abbandonare il calcio anche se sono nato nel calcio perché ha detto sì al real fondo di mister orto e del collaboratore ceraudi perché è un buon progetto poi sono i compagni sono tutti tranquilli e a me piace questo nel calcio l'umiltà la prima cosa ci dobbiamo aiutare l'uno con l'altro e si riparte così che tipo di centrocampista e domenico io posso giocare dove volete qualsiasi posto anche in difesa tranne in porta tranne in porto si è ma la cava a tutte le parti si si li conosce dicono da anche sono tutti di crotone sono pure di crotone e li conosco a tutti questa prima categoria come è un buon campionato però se alla fine si gioca 11 11 quindi ce la dobbiamo lottare dall'inizio alla fila lei ha messo a segno un colpaggio che colpaggio è contento e che tipo di centrocampista è domenico casaccio è un buon acquisto è un buon centrocampista c'è esperienza in queste categorie era quello che cercavamo ci avete lavorato ci abbiamo lavorato alla fine si è convinto insoddistanci a voli anche con un altro elemento come domenico de roberto domenica in coppa calabria ha fatto i suoi sordi la vedo abbastanza sprint le polpette le polpette e non mangiate domenica ma lei quando tornerà io purtroppo devo stare fermo quasi un mese che si è stirato questa volta il colpaggio abbiamo visto l'ecografia pensavo fosse incinta però poi ho capito che era un colpaggio ma com'è questa squadra quest'anno la squadra è ancora il raggio ancora stiamo cercando l'assesso però dai la salvezza è possibile forse nel fondo di giù forza sempre guarda che traversa un piedone